La mancanza di lavoro, le crisi che in perversa minacciosa insistente spingono tanti cittadini a fare le valigie e abbandonare la propria terra in cerca di fortuna altrove. L'emigrazione è un fenomeno tristemente sempre più diffuso dalle nostre parti. Cittadine come Licata e Palma di Montechiaro che si spopolano per la ripresa dell'emigrazione. Soltanto a Licata 386 cittadini su mille sono emigrati. Nei mesi scorsi il primo cittadino di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato, aveva lanciato l'allarme dopo aver verificato i dati sulla popolazione della sua città e di alcune aree del circondario con in testa Licata. Ed oggi il sindaco Pasquale Amato, a carta e penna alla mano, ha voluto scrivere una lettera rivolta a tutti gli emigrati palmesi. Sono cresciuto, scrive Amato, quando l'emigrazione cambiava e dalle terre lontane d'America si rivolgeva a nuove mete, alla nostra Europa. Ma se cambiava la destinazione, l'avaro destino ci ha sempre comunque riservato il distacco dalle nostre radici e dai nostri affetti. Siamo orgogliosi di voi che, per onestà, avete cercato lavoro anche lontano dai vostri focolari, avete contribuito a produrre ricchezza altrove e questo ci fa onore, ma avete anche aiutato la nostra terra a progredire. Ora, continua il sindaco Amato, dobbiamo costruire una rete che ci onori di essere gli eredi del gattopardo, non più uomini fatalmente sconfitti, ma cittadini orgogliosi di essere nati in una terra a 20 chilometri dalla città di Agrigento, la terra del castello Chiaramontano che si staglia lungo la costa a metà strada tra Punta Bianca e la foce del fiume Palma, nella città fondata da Carlo Tomasi nel 1637. In una terra, continua il sindaco, dove il duca di Palma Giulio Duca Santo fece costruire sulla collinetta denominata il Calvario, la chiesa di Santa Maria della Luce, realizzò una via Crucis che rappresentava il percorso di Gesù, dal palazzo di Pilato al Golgoth ed ottenendo, per quei pellegrini che la percorrevano, l'indulgenza plenaria al pari di quella in terra santa. Fieri di essere nati nella terra che ospita il monastero delle Benedettine, la chiesa madre, che sorge maestosa in cima ad una lunga e larga scalinata, entrambi esempio pregevole del barocco siciliano. L'ex convento dei padri scolopi, oggi sede del comune, il palazzo Ducale, tutti i beni ospitati in una terra di sole, mare cristallino e archeologia, tutti i beni che dobbiamo valorizzare insieme alle vostre attenzioni, intelligenze per costruire un futuro che consenta alle nuove generazioni di restare. Restiamo, conclude il sindaco amato, in contatto e apportiamo amore nei luoghi dove stiamo tenendo alto l'orgoglio e l'onore della nostra terra.